Verità per Luca Attanasio è ciò che chiede il Partito Democratico della Lombardia che ad un anno esatto dalla morte dell'ambasciatore italiano caduto vittima il 22 febbraio del 2021 in un'efferata imboscata insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista locale Mustafa Milambo nella Repubblica Democratica del Congo, presenterà in aula del Consiglio regionale una mozione per chiedere alla Giunta di farsi parte attiva in coordinamento con le altre regioni presso il Governo nazionale affinché si faccia chiarezza sul caso del diplomatico Lombardo e affinché le indagini ricostruiscano le responsabilità. Ormai a un anno dal sassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio, del suo autista e del carabiniere Iacovello, è ora che le istituzioni si diano una scossa per quanto riguarda la ricerca della verità. Nelle scorse settimane è trapelata la notizia dell'arresto di presunti esecutori materiali, ma questo non basta. La stessa famiglia Attanasio ha chiesto che le nostre istituzioni si facciano parte diligente perché tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questa vicenda vengano coinvolti per stabilire davvero perché è potuto accadere e stabilire anche delle condizioni di sicurezza perché i nostri diplomatici all'estero possano essere sempre e comunque protetti. Tra l'altro, notizia di queste ore, che anche 48 europarlamentari hanno chiesto che il Parlamento europeo si attivi su questo. Per cui la mozione, in vista del primo anniversario dell'uccisione di Attanasio, vuole far sì che il Consiglio regionale si metta a fianco della famiglia per chiedere verità e chiarezza su quanto è accaduto. Lo dobbiamo alla memoria di Luca Attanasio, ma lo dobbiamo anche alle nostre istituzioni perché lui era là per servirle e non a titolo personale.